Oggi dobbiamo vibrare una pesante protesta contro i nostri amici che non si sono uniti a noi. Allora, Alessandro doveva abbassare la tesi, eh vabbè. Alla fine rubare l'ora, giustamente, stasera la fornita testa. Ma Gigi, voglio sapere... Gigi non si sa, io alla mia risposta, alla mia domanda. Alessandro, ma tu stai battendo la tesi, Gigi pure ti ha battuto la tesi. Alessandro ha risposto, Gigi invece sta battendo la fiacca. E che la dice Luca? Con molto rammarico, questa scelta che hai fatto stasera non va bene. Non va bene, non va bene. La domenica non è il tuo posto del patente. Ah, 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 ah. Passate il giro dei presenti, come potete vedere siamo pochissimi. Dattà, Verona, una new entry. Massimo. Ciro. Decenzo. Qua ci sto io che, regali, già sta. Forza, e congratà, concludendo questa partita. Questa partita la dobbiamo vincere anche per chi rimane a casa. Ah, voglio riuscire a capire il mio video della settimana scorsa ha totalizzato una settimana 1045-1046 visualizzate, ma correte tutti, ma ripetiamo come si diceva, la bella delle spettature, forza rapo!